Sì, ci cambiamo la vita, perché è Mario. Mario, domina dove siamo? Sì, adesso non posso parlare, ti chiamo io stasera, ciao, 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 ciao. Cos'è? Problemi sul lavoro? No, non ti dobbiamo parlare. Ottimismo, sì, ottimismo. Sì, no, 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 no. E' ancora te? Sì, no, 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 no. Ciao, ciao, ciao. Sì, no, 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 no. Sì. Mi hanno rifiutato il trasferimento a Milano. Cosa? Un disabile, passato davanti. Cioè, adesso per vivere a Milano bisogna essere handicappati. No, è che hanno la priorità, è giusto, dai. Ma non doveva aiutarti il tuo amico Mario, pensa tutto io, penso tutto io. Ma quanto tempo è? Dico che Mario è un ciaparato. Papà, che vuoi dirci a parlare? No, vuol dire, prendi i topi. Buona luce a stare. Ma cosa fai tu? E' guarda. Non è così, non è colpa di Mario, non è colpa mia, non è colpa di nessuno. Ah, non è, non è colpa di nessuno. No, non è colpa di nessuno. Non è colpa di nessuno, non è colpa di nessuno. Mario, non è colpa di nessuno. Allora, i venti, la da giro. E' guarda. Mario, sei un mazzino? Grazie. 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 Nonショara? No, i ragazzini che fanno scherza, non credo lo so molto. Ecco vai, si sieda. Cosa può fare per lei? Mi falta a chiacquettura inilia 들 seconds. Non è facile per me impromerne, era molto piccolo e il ricordo è spaccato mi credo di vivere quel tronco eternibile un spazio non posso dare passato dottor Colombo ci sono state due domande del trasferimento suo nome una regente per persona la mobilità è un'altra in cui è la stessa persona che ho fatto io queste domande quella come persona stanta l'ho fatta perché volevo che la mia richiesta fosse considerata come quella di tutti gli altri l'importanza bisogna vedere negli occhi di voi persone cosiddette con mali qualcosa che vada a dirla con una semplicità ne fa onore grazie ma se questo è il mio trasferimento io so ma no adesso no non la semplicità che verifica purtroppo come testaria perché abbiamo spesso a che fare con dichiarazioni false per ottenere le settimane di arrivare grazie 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 non voglio disturbarla ulteriormente non sei fuori sei completamente fuori noi siamo amici ma che amici non sono amico di un pirla che si fa passare grandi da parte ho fatto persiglio non dovevo si sono pentito ormai si è ritito Roberto ho una buona sono sospeso peggio licenziato peggio ancora sono licenziato cosa c'è? trasferito al sud al sud tipo Bologna non Bologna sul sud non dire l'uomo sai che è un bologna non mi preoccupare di un lavoro molto piaciuto sicilio no prima della sicilia c'era campagna se vi sta per lo spirito al cinese a campagna ma l'altro ma spaventoso ma cominci con Bologna come credi io quando non mi sentite c'era che io non posso dobbiamo andare a dormire c'era una parte per cui rigiro qui inizio a dove l'altro non è stata niente la castella va non è la notizia è questa e la brutta ci resterà due anni va vieni tu vieni a Napoli ma mi senti Alberto ho il licenziamento per grani responsabilità tu vieni a Napoli io voglio adesso vai vai mi dispiace non è Ciao, ciao, ciao. Gli hanno trovato qualcosa di molto, molto bello. Ah, e dove? A dove va bene. E dove? A Castella Bacca. A più dentro da pari qua, per Milano. Cos'è detto? Prima. Prima. E dentro? Dove? Vicino a Napoli. A Napoli? Il posto di Milano mi sono spacciato per disabili. Ti sei spacciato? Ma che piglia? Ma che piglia? Non ci posso credere di aver sposato una così, una così, una così, Kiko. Piglia? Ci vai da solo, sai? Mettiti in testa, ci vai da solo laggiù. Kiko, pigiama, tu si vai. Ma guarda che... Mamma, io ho paura che c'è della bella. Il problema del signor Pagliazzoni, il lustro accademico del colponsore Adachi. Grazie. Ma se in Italia era in alcuna cosa, eh? io sa che mia madre quando ho vicino si faceva sulla regola un terone no? poi un problema è che sono tutti terone uomo e uomo, uomo e uomo, quindi tutti terone gatti sono terone, cani sono terone le rate in porra, la castiguita dicono che sono terone e fanno ciò come intercione e non capisci neanche e fanno prima, capisci che questa prezzovezza e lavorate, di giochere e poi lo sperare e e che è più 50 gradi perché si diventa fatto un super amianto che è tenuto una cosa ci sta potendo è molto chi vive bene sono quelli che vivono con la famosa non mi metti 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 ti prendi un piccolo e poi mi metti che mi metti non mi metti non mi metti è un po' io ho alcuna soluzione che succede perché solo perché io ho appena non che che fa cosa si chiama fa? il salto e il verdure è superiore 35 gradi febbre con il grasso e un medicino ma ci sentiamo fuori ci ha fatto questo che c'è? no che? cosi? è un po' questa è un po' Grazie a tutti. Meditano soprattutto. Cosa fai? Ma sei morto. Mi sbaglio già posso. Perché magari per prendere tutti. Che stupido. E' vero. E' una casino. Grazie. 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 Grazie a tutti